ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi finalmente è arrivato il giorno di recensirvi questi strumenti di misurazione che mi avete visto utilizzare e per i quali mi avete scritto in tantissimi per avere informazioni quando ho recensito il cinebasto sono degli strumenti che ci permettono sia di risparmiare che di essere sicuri in casa questo è il caso per esempio appunto del gas detector ma ve li faccio vedere per bene guardandoli sul bancone perché sono tanti ovviamente non farò un discorso molto approfondito vi darò le caratteristiche principali faremo un paio di prove molto rapida sono della gvd ha già vi ho fatto conoscere questo marchio per diversi prodotti tutti i prodotti che finora hanno funzionato bene effettivamente sul mercato dopo di tempo e lavorano bene quindi vi faccio vedere tutte le caratteristiche vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione sperando di associarli anche a dei codici di sconto i prezzi variano perché prodotti sono differenti quindi troverete tutte le informazioni giù primo commento e descrizione ora iniziamo e allora abbiamo quindi sul bancone sia le scatole dei prodotti che prodotti senza il cappuccio l'unico a non avere cappuccio è il misuratore di vento quindi iniziamo a vedere all'interno della confezione partiamo da uno uno solo perché sono praticamente identiche quindi anche la confezione precisa l'unica cosa che cambia poi l'etichetta riportata da questa parte che corrisponde al codice riportato sul prodotto aprendo la confezione quindi abbiamo un piccolo manuale di istruzioni una bustina per poterlo trasportare poterlo proteggere quindi in vellutino con dei laccetti e in questo caso specifico trattandosi del misuratore di umidità che ha le punte intercambiabili possono essere svitate vengono date dotazione sia una piccola chiavettina che delle punte per poterle sostituire questo è l'unico che ha dei pezzi di ricambio perché gli altri non hanno nulla che si possa intercambiare quindi confezioni praticamente identiche per tutti quanti ma nelle istruzioni ovviamente in base al prodotto riporta descrizioni specifiche differenti che però non approfondiremo in modo molto dettagliato altrimenti il video durerebbe un'ora dedicando dieci minuti ciascuno innanzitutto voglio farvi notare che nonostante abbiano tutti i misuratori di umidità e di temperatura c'è un poco di differenza quindi questo presente a 20 gradi e 3 questo 20 gradi e 1 questo 21 gradi e mezzo in questo caso tra questo che a 20 gradi e questo 21 gradi e mezzo c'è un grado e mezzo di differenza questo addirittura 19 gradi e 4 e questo 19 gradi e 6 però orientativamente sono tutti attorno ai 20 gradi quindi c'è della differenza ma non è abissale se li utilizzate come riferimento ok ma se vi serve una misurazione precisa sappiate che c'è questo margine un grado non è nulla di grave però se vi serve precisione c'è questa piccola differenza ma guardiamo la funzione principale questo è solo un accessorio il fatto che abbia questa misurazione questo è il misuratore di decibel che ci dà la possibilità di misurare i decibel come dice il nome del prodotto stesso con più possibilità quindi abbiamo sia la misurazione veloce come in questo caso vedete va velocissimo se io parlo pure metto un rumore immediatamente sale me lo indica però in questo caso ci rende difficile la lettura allora abbiamo la possibilità di avere la velocità fast oppure solo quindi in questo modo come vedete è molto molto più lento e ci dà la possibilità di leggere con più facilità dandoci solamente il picco del volume più alto quindi comunque se io colpisco il bancone me lo indicherà ma non avrà questa salita questa discesa rapida semplicemente mi permette di leggerlo ora si stanno spegnendo man mano tutti i vari dispositivi perché le accesi contemporaneamente c'è l'auto spegnimento quindi se non si fa nulla ovviamente si spengono e stavo dicendo su questo abbiamo diversi tastini quindi abbiamo la possibilità di cambiare l'unità di misura per quanto riguarda i gradi la possibilità di accendere e spegnere la luce del display questo valido per tutti tenendo premuto questo tastino ma abbiamo anche la possibilità della funzione old quindi di bloccare la schermata nel momento in cui ci interessa e averla fissa fare come una sorta di screenshot quindi premendolo in questo modo non avremo più una misurazione ma avremo l'ultima misura quindi possiamo poi interromperlo premendo nuovamente per accendere e spegnere la luminosità basta mantenere premuto il tastino specifico che in questo caso ha solo una illuminazione che serve al retro illuminare quello che dobbiamo vedere ma nel caso in cui utilizziamo gli altri strumenti non tutti abbiamo invece una funzione in più per quanto riguarda la luminosità allora vi faccio vedere direttamente questo innanzitutto che non ha una funzione particolare per quanto riguarda la retroilluminazione infatti è la stessa è di colore bianco mentre sulle altre di colore verde questo indica quindi la misurazione del vento anche questo temperatura e umidità ma abbiamo la possibilità di utilizzarlo in diverse situazioni innanzitutto possiamo cambiare il tipo di unità di misura in chilometri orari e miglia orari eccetera eccetera ma a noi interessa il chilometro orario al limite metri al secondo in quale occasione si utilizza questo tipo di strumenti nel caso in cui stiamo facendo per esempio un impianto e vogliamo che l'aria fuoriesca da più bocchettoni con la stessa potenza abbiamo la possibilità di verificare appunto che corrisponda oppure se vogliamo aumentare da una rispetto ad un'altra insomma possiamo gestire la fuoriuscita dell'aria calcolando tramite la rotazione di questa piccola elica appunto la velocità di fuoriuscita e contemporaneamente avere un riferimento anche sulla temperatura della stessa io l'ho utilizzato per esempio con gli incisori laser per la misurazione dell'aria che viene messa dall'uggello dell'air assist ma si può utilizzare nel caso in cui per esempio venga cambiato il sistema di ventilazione di una stampante 3d di un computer eccetera per vedere se il flusso d'aria aumentato rispetto alla ventola precedente oppure nel caso in cui si faccia un impianto e si voglia vedere appunto il funzionamento corretto di alcune ventoline o nel caso in cui ci sia la possibilità di trovare degli spifferi quindi posizionando questo davanti a dove abbiamo il dubbio che ci sia uno spiffero d'aria allora verrebbe rilevato adesso vi faccio vedere muovendo la mano velocemente in questo caso già come vedete semplicemente facendo un po di vento e vi assicuro che non sto facendo chissà quanta forza la ventola a gira avevamo già una lettura soffiando invece guardate quanto sia sensibile quindi abbiamo la possibilità di utilizzarlo appunto per verificare che i nostri strumenti funzionino bene potrebbe essere una pistola a caldo un phone qualunque cosa che abbia magari un aumento una diminuzione graduale e vogliamo vedere se abbiamo effettivamente un aumento oppure no quindi utilizzo semplicissimo ma che in diverse circostanze può tornare utile non abbiamo però il coperchio come vedete ha una forma particolare e lo conservo in questo modo per gli altri invece basta utilizzare questo coperchietto poi abbiamo questo gas detector che appunto avete visto quando ho recensito il cinebasto e che permette quindi di avere delle misurazioni per quanto riguarda la presenza di gas inquinanti insomma il rischio di esplosione eccetera innanzitutto io vi consiglio di accenderlo con il coperchio perché inizialmente fa un check quindi lo accendo come vedete c'è un check iniziale ci invita ad aspettare aspettiamo che sia b perfetto adesso si è avviato ci dà la possibilità di utilizzarlo per fare la ricerca di presenza di fuoriuscita di gas eccetera si può utilizzare in diverse circostanze infatti nel manuale di istruzioni ma anche dal link che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione vedrete che riesce a misurare la presenza di benzina alcol altri agenti comunque inquinanti che sprigionano delle sostanze potenzialmente tossiche in questo momento abbiamo l'illuminazione di colore verde quindi oltre al retroilluminare ci dà anche un'informazione che va tutto bene e abbiamo anche questo misuratore con il livello che va aumentando in base a quanto la presenza rileva di sostanza lì nell'ambiente vi faccio vedere direttamente utilizzando questo accendino ecco visto rileva la presenza del gas essendo messo in modalità con sensibilità alta ok ragazzi va diminuendo poi gradualmente fino a diventare di colore verde per poi diminuire completamente le tacchette interrompere il segnale di allarme anche sonoro che però adesso disattiverò perché effettivamente se non mi consente di parlare ancora ci sono comunque due tacche perché nell'ambiente c'è un minimo di presenza di gas adesso riduco la sensibilità per poterla ridurre basta semplicemente premere questo tasto sensibilità low sensibilità media e sensibilità alta vediamo con sensibilità low come si comporta lo metto leggermente più distante ecco mi indica anche in questo caso la presenza di gas se io adesso aumento la sensibilità al massimo ovviamente avrà una sensibilità maggiore anche da lontano quindi lo mettiamo in questo modo come vedete è arrivato immediatamente dal segnale massimo o disattivato ovviamente il suono però questo è il comportamento è la stessa cosa può fare per esempio in presenza di alcol come vi ho fatto vedere nella recensione del cinebasto mettendolo vicino alla marmitta ma la stessa cosa si può fare con altri tipi di sostanze ripeto tutto l'elenco lo troverete nel primo commento è nella descrizione a pio è l'auto spegnimento auto power off ma ovviamente possiamo spegnerlo anche da questo tastino non vedete il tasto di accensione spegnimento della luce perché in questo caso ripeto la retroilluminazione serve come indicatore questo invece è il luxometro che permette di misurare la luminosità non sarò troppo tecnico io conosco questo tipo di strumenti ma non l'ho mai approfondito in modo troppo tecnico quello che mi interessa più che altro è vedere appunto la luminosità per esempio la misurazione dei lumen andrebbe fatta ad una distanza particolare di circa 28 cm con il fascio luminoso diretto in un modo particolare eccetera quindi quello che vi sto facendo vedere ora lo stesso per quanto riguarda le candele perché riesce a misurare anche le candele andrebbe fatto in modo corretto ma per quello per cui si utilizza un luxometro in ambito normale si fa diciamo per vedere se la luminosità è uguale in un punto oppure in un altro della casa se c'è un rischio di avere un abbagliamento quindi una luminosità che non ci dà la sensazione di infastidirci ma che in realtà poi il nostro occhio il nostro corpo ma che poi in realtà ci provoca una sofferenza perché la luminosità è troppo alto è troppo bassa o ci sono differenze luminosità da un ambiente a un altro in più ci sono degli ambienti che sono consigliati in più ci sono degli ambienti domestici ma anche lavorativi eccetera nei quali è consigliato avere una determinata luminosità e questo permette di farlo ma si può utilizzare anche per misurare i lumens messi con una torcia tattica e tanto altro quindi guardiamo la differenza per esempio di luminosità effettiva che c'è nel mio laboratorio mettendo il luxometro sotto questa lampada e poi spostandolo sotto a quest'altra c'è una grande differenza come vedete è tra l'altro la misurazione va fatta con la luce perfettamente perpendicolare al sensore se noi abbiamo una fonte luminosa che indica in questo modo lo incliniamo così o così non va bene deve essere effettivamente rivolto proprio contro il fascio luminoso e quindi portandolo nei diversi punti di un ambiente avremo una misurazione differente che varia ovviamente anche in base alla distanza che avremo dalla fonte luminosa in questo caso abbiamo una misurazione se io mi avvicino come vedete va aumentando e come vedete non c'è nemmeno una proporzione perché poi c'è un calcolo particolare non è proporzionale se noi raddoppiamo la distanza non avremo il doppio della misurazione ma in scale un discorso un pochettino particolare ma quello che vi interessa se cercate un luxometro e sapere che questo di qua risulta preciso fatto dei confronti li ho fatti fare ad un amico che ha un luxometro è un fotografo sia degli sposimetri che dei luxometri e mi ha confermato che effettivamente è praticamente al quasi allineato a quello che possiede lui quindi un prodotto attendibile che per il tipo di utilizzo che noi dovremmo fare eventualmente per verificare che gli ambienti siano illuminati in modo corretto va più che bene perché anche se la misurazione effettivamente non fosse perfettamente allineata con quello professionale comunque ci permetterebbe di avere la sicurezza che in un ambiente tra un punto e un altro avremo comunque una certa coerenza anche per questo quindi si può cambiare sia input candele oppure in lux e adesso passiamo all'ultimo degli strumenti in ordine ovviamente di disposizione questo serve a misurare l'umidità presente all'interno del legno come sapete meglio di me il legno prima di metterlo ad ardere oppure prima di produrre pellet o di fare alcuni tipi di lavorazione deve avere una determinata umidità e questo ci permette tramite questo tastino di accenderlo compaiono una marea di icone eccetera abbiamo la misurazione dell'umidità dell'ambiente che viene rilevata dal sensore la temperatura e poi in questo caso abbiamo questa scala che ci indica il livello di umidità espresso in percentuale all'interno del legno poi ovviamente qua abbiamo anche il riferimento con il numero scritto in grande è una serie di tastini che ci permettono sia di memorizzare di bloccare la schermata e poi di vedere la misurazione minima e massima cosa comune anche con gli altri non vi ho fatto vedere ma vi permette di vedere la massima alla minima misurazione ora prendo un pezzo di legno e vi faccio vedere appunto come si comporta utilizzandolo direttamente sul legno allora proviamo su questo listello per poterlo utilizzare si devono posizionare questi due puntali direttamente conficcandoli sulla superficie del legno quindi io posiziono in questo modo 13.1 come vedete abbiamo queste stanghette che sono super giù attorno al 12 poco più del 12 bisogna aspettare che si stabilizzi leggermente comunque super giù 12 13 poi per questo bisogno di prendere il manuale di istruzioni perché devo farvi vedere in particolare come vedete qua abbiamo una lettera e disegnato un alberello premendo la m quindi cambiando modalità passeremo a b c d e eccetera eccetera con l'icona che va cambiando sulla b rimane comunque con il disegno dell'albero e qua abbiamo un elenco di risposte in base alla modalità utilizzata perché ovviamente l'allarme quindi il fatto che sia adatto o meno come percentuale corrisponde alla modalità che stiamo utilizzando che si riferisce a diversi tipi di legno infatti queste lettere sulla parte finale di questo manuale di istruzioni hanno dei riferimenti come vedete betulla eccetera eccetera ci sono diversi tipi di legno e quindi in base al tipo di materiale che stiamo misurando dobbiamo impostare se corrisponde al tipo di alberi di legno eccetera che appartengono al settore a b eccetera eccetera quindi poi di conseguenza avremo la percentuale e di conseguenza ancora avremo quindi una lettura e un utilizzo diverso ma quello che dobbiamo fare quindi cambia tutto in base alle impostazioni che daremo infatti se facciamo la stessa misurazione di poco fa sullo stesso listello avremo sempre circa 13 si deve stabilizzare e poi premendo m come vedete cambia scusate ho sollevato puntali cambia ma cambia ancora molto in modo abissale se vado sulla c poi si dimezza su per giù andando con altre misurazioni insomma va variando 1.363 eccetera eccetera quindi cambia ripeto in base al tipo di materiale perché una percentuale che può andare bene con un tipo di legno che è destinato a un determinato tipo di utilizzo non andrà bene sicuramente con altri tipi di materiale ora proviamo sulla mano come vedete in questo caso ovviamente l'umidità è differente e anziché avere una luce di colore verde abbiamo una luce di colore arancione che varia punta addirittura al rosso con alcuni picchi in base a come chiudo la mano l'umidità che ho ovviamente essendo pelle umana rispetto al legno più umida e quindi ci dà una lettura che ci permette di capire semplicemente con contatto se per l'utilizzo che abbiamo intenzione di farne di quel materiale l'umidità all'interno va bene oppure no e ora voglio farvi vedere un'altra funzione di questo strumento che può essere utilizzato ripeto per dubbi su fughe di gas eccetera ma si può utilizzare anche nell'uso delle bombolette noi lo stiamo utilizzando con mascherine eccetera vogliamo sapere poi se in quell'ambiente c'è ancora rischio di inquinamento di respirare sostanze tossiche e vi faccio vedere spruzzo questa bomboletta all'interno di una scatola la stessa scatola con cui mi è stato spedito il prodotto l'avvicino come vedete rileva la presenza dell'odore della vernice e quindi ci avvisa che non va bene è un ambiente nel quale non bisogna respirare quell'aria ora ovviamente messa in sensibilità alta ho fatto una leggera spruzzatina io io rimango nell'ambiente però effettivamente non sarebbe una cosa salutare rimanere dove si è usata una bomboletta o altre sostanze che questo dispositivo riesce a rilevare quindi ci permette di evitare di avvelenarci i polmoni ragazzi io vi lascerò tutti i link tra l'altro vi lascio anche il link del gruppo dedicato alle incisioni laser con l'utilizzo del software light barn l'ho creato da poco già siete in tantissimi iscrivetevi anche voi perché questi strumenti si utilizzano per esempio anche con l'incisione laser per poter testare eventualmente anche la fuoriuscita e la erastis e tanto altro anche il legno da incidere non andrebbe misurato con rilevatore ma poi sono cose troppo approfondite ragazzi detto questo andate a dare un'occhiata a tutti i link che vi lascerò vi invito ad iscrivervi al mio canale mettete anche mi piace a questo video se vi è piaciuto cliccate sulla campanella per attivare notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto